Eccola al decimo, Briaschi, traversone per Rossi che manda a lato. Otto minuti dopo, Platini, ecco il francese, spara su Tancredi. Vediamo il gol, ventesimo minuto. Platini lancia Briaschi ed è rete, 1-0 per la Juventus. Ventitresimo, calcio d'angolo. L'arbitro Casarin ravvisa in un intervento di Bonetti gli estremi per l'espulsione. Bonetti lascia il campo. La Roma, nonostante sia in dieci, gioca bene, forse meglio di prima. Alla mezz'ora arriva il pareggio. Chierico, eccolo, lancia Giannini ed è gol, 1-1. Quarantaduesimo, Platini, scambio con Boniek, Rossi, Briaschi, traversa. Andiamo al secondo tempo. Una punizione, Boniek per Platini, ancora Boniek, a terra su intervento di Nela. Qualche azione romanista. Vediamone una, questa, Graziani per Chierico. Buriani, ecco Buriani, il salvataggio di testa di Favero. Di nuovo la Juve in attacco. Boniek, Platini, ancora Boniek, ma sfuma l'azione dei bianconi. Un'altra azione della Roma, Graziani, Buriani, Buriani pescherà Graziani solo, ma Graziani di testa manda a lato. I migliori, Briaschi e il solito grande Platini da una parte, Righetti dall'altra. Ho concluso.